eccoci qua sono tornata per piangere un altro po però non piango molto oggi poco è sempre bellissimo vedere i nostri vecchi pazienti ma io non li posso più chiamare pazienti perché sono i nostri amici che li rivediamo da tantissimo cioè da tanto che non ci siamo allora febbraio 13 20 febbraio 2021 che ho fatto la linea definitiva e adesso sono qui per il controllo quindi è andato abbastanza bene adesso poi dimmi un po come ti senti in questi tutto questo periodo mi sono sempre sentita benissimo cioè i denti sono meravigliosi e io mi sento bene con me stessa ecco sono sono sempre felice da quel punto di vista come ritornare qua in moldavia allora io torno sempre molto volentieri perché la cosa bella che è iniziata qua me la porterò sempre nel cuore sempre vedi non fa non fa piango sempre piango e basta perché hai vissuto ho vissuto emozioni che che solo qua mi hanno dato io qui sono rinata a 58 anni adesso ne ho 62 quindi da quattro anni sono di nuova tornata a rita felice grazie a s os turismo dentale e di la verità volevi venire o è rita che ti è costretto di venire dai e gli occhi dicono tutto però lo puoi dire è stato bello rivederti sì sì quello sì quello sì è stato bello rivedervi perché perché dovevi vedere chi loro sono i miei amici le impressioni quali sono e molte professionalità sicuramente mi trovo bene vedo che avete già fatto la spesa si yogurt si sta preparando mi sto preparando ecco diciamo la cosa più bella della moldavia è la educazione di base della gente secondo me ho trovato un'umanità che avevo dimenticato che esistesse nella per le strade non non in clinica per le strade addirittura è proprio una cosa una differenza che da noi cioè da noi è come se non ci fosse più un certo tipo di rispetto che qui è proprio nella pelle della gente come state bene grazie bene ha già finito lei sì ai definitivi sì sì e come si sente si vede benissimo 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 sì sì grazie domani vai in cantina no siamo già stati in cantina già stati si è già bevuto e il marito invece cosa dice io bevo io bevo si 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 come si sente ma parli però eh si ah avanti il prossimo prima lei sperimento poi si 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 ah ok ho capito come funziona la cavia e la clinica come vi è sembrata l'esperienza qua benissimo anche i dottori sono bravissimi bene chi è stato il dottore il dottore era dimitri ok invece il protesista michele e facciamo un saluto a michele ciao e si l'ha fatto lui bene allora ma possiamo andare anche un po più avanti perché c'è qua un signore che ci guarda come stai bene ora si può andare in gita vero si può mangiare benissimo quella è la cosa importante come ti senti benissimo benissimo ho finito per fortuna sono stato bene l'esperienza com'è stata benissimo anche perché lo sai ho una moglie moldava quindi vengo spesso in moldavia e quindi sei di posto sono del posto peccato la lingua che non la parlo come non la parli sai dire non so buongiorno buona diminezza bravo bravissimo e come sarà grazie grazie bravo e basta 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 e si da ciao ciao a tutti bravi ciao a tutti